Componi la parola. In questo gioco io dico una parola a pezzettini e voi dovete indovinare di quale parola si tratta. Ad esempio, io dico Pa Ne Cosa ho detto? Pane. Bravissimi! Avete capito? Ora iniziamo. Lat Te Ho detto latte. Bravissimi! Ca Za Ho detto casa. Bravissimi! Libri 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 Bravissimi! Scim Mia Scimmia Bravissimi! For 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 Gio Formaggio Bravissimi! Vio Li No Violino Violino Bravissimi! Pi Pinguino 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 Bravi! De De-ser-to, deserto, bravissimi, e ora l'ultima parola, la più difficile, pe-scio-li-ni, pesciolini, bravi, ciao bimbi, alla prossima!